ciao a tutti e bentornati in tessila news immaginate un filato che non sia solo robusto e versatile ma che sia anche un vero e proprio piacere per gli occhi tutto questo e molto di più è l'enia quindi che cosa facciamo analizziamolo nel dettaglio eccolo qui il nostro enia allora analizziamo nei dettagli innanzitutto la composizione ovviamente l'enia è composto per il 100% top acrilico quindi un acrilico davvero di ottima qualità e certificato anche ecotex e global texil standards si presenta così in gomitoli da 100 grammi per una lunghezza totale di 250 metri con delle sfumature lunghe davvero molto particolari che vedremo poi nel dettaglio lo spessore eccolo qui lo vedete non troppo spesso neanche troppo sottile leggermente lavorato che consigliamo di utilizzare o con l'uncinetto 3 4 oppure con i ferri 4 5 ed è come potete vedere anche abbastanza lucido consentendovi quindi di realizzare delle creazioni davvero molto luminose ma abbiamo accennato prima sfumature di colori davvero stupende e quindi analizziamole nel dettaglio iniziamo proprio da quella che abbiamo visionato finora che è legna naturale vedete questi lavori che troverete durante la vostra creazione che davvero creano questo effetto diciamo un po jacquard senza troppi sforzi qui vediamo dei toni molto delicati che vanno dal cipri al beige al viola davvero molto bello analizziamo invece adesso quest'altra tonalità che è la tonalità enia profondo come potete vedere dal gomito non si intravedono poi dipende a volte anche dalla gomitolatura queste linee blu che invece qui sono molto evidenti quindi c'è sicuramente una bella nota molto marcata di questo blu molto intenso tendente anche all'avio intervallato però anche da queste tonalità di grigio di perla e di bianco che sicuramente lo mettono molto in risalto questo invece è legna radioso in effetti di radioso qui c'è molto soprattutto se pensiamo a questa tonalità di rosa quasi tendente al corallo che si mixa perfettamente con toni invece più delicati e quindi contrastanti di cipria e panna analizziamo invece adesso legna calmo qui invece ci sono le tonalità del verde bene sì quelle predominanti sono sicuramente queste però come potete vedere poi invece la parte diciamo centrale che oltretutto come vedete è arrivata ad un certo punto si ripete eccola qui questo vale per ogni singola variante di colore contrasta con il verde attraverso questa sfumatura invece tendente ad un grigio molto scuro e analizziamo invece adesso nel dettaglio legna romantico e qui insomma ci vediamo subito un bel maioncino caldo da indossare accanto magari ad un camino con tonalità che tendono verso il rosa intervallate poi da questa linea un po più scura che invece tende al porpora questa invece è una tonalità di enia che sicuramente piacerà moltissimo anche e soprattutto al pubblico maschile parliamo infatti del legna misterioso in cui i colori predominanti sono quelli classici semplici e puri del grigio e qui invece accontentiamo anche le più giovani le fashion addicted amanti del rosa con legna ardente qui spaziamo da un bel rosa di diverse tonalità intervallato da un panna e da questo meraviglioso arancione e ovviamente non poteva mancare un'altra tonalità che va tantissimo di moda in questo periodo che è una tonalità petrolio che caratterizza legna vivace petrolio di fondo grigio bianco insomma il mix perfetto e qui abbiamo un'altra tonalità perfetta sempre per le amanti del rosa questa volta però con contrasti diversi parliamo infatti del legna luminoso e concludiamo questa carrellata di sfumature con legna invitante e in effetti insomma un nome di fatto in quanto è un nome che davvero rispecchia perfettamente la creazione che potrete realizzare da indossare durante questo rigido inverno tante varianti di colore delle sfumature davvero molto particolari e degli effetti che è davvero molto difficile ottenere soprattutto se magari non si è davvero esperti in materia beh grazie a legna potrete ottenere tutto questo le creazioni da realizzare sono davvero tantissime pensate a sciarpe berretti ma anche cappotti perché no maioncini e cardigan grazie a questo filato otterrete una texture e dei design davvero ineguagliabili perfetto per tutti per grandi piccini grazie a tutte le varianti di colore che presenta riuscirete ad accontentare i gusti di tutti una combinazione di colori perfetta e poi è in 100% acrilico di alta qualità e soprattutto anti peeling in modo tale che davvero possiate indossare le vostre creazioni senza alcuna preoccupazione e non dimenticate le istruzioni di lavaggio che potrete trovare anche sull'etichetta consigliamo di lavare la vostra creazione ad una temperatura che non superi i 30 gradi di non utilizzare l'asciugatrice ma di riporre invece la vostra creazione ad una posizione piana lontana da fonti di calore eccessive e ovviamente non è possibile candeggiare preparatevi insomma ad innamorarvi di ogni punto grazie a legna io vi ringrazio come sempre per averci seguito vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale youtube e di attivare la campanella ma di iscrivervi anche al nostro solo unico gruppo ufficiale tessiland noi ci vediamo al prossimo sorprendente e meraviglioso articolo ciao